Musica Sono quasi 2000 le famiglie piemontesi che in pochi giorni hanno accolto l'invito della regione Piemonte a ospitare i profughi ucraini in arrivo in Italia. Chi lo desidera può manifestare la propria disponibilità all'accoglienza in casa compilando il modulo online sulla nuova pagina dedicata Il Piemonte per l'Ucraina in home page sul sito della regione. Seguendo le indicazioni si forniscono informazioni sulla composizione del nucleo familiare ospitante, la presenza di animali e bambini, la tipologia dell'abitazione, la possibilità di ospitare minori o persone disabili, il periodo di disponibilità e altri elementi utili a identificare il tipo di accoglienza che si potrà dare. E' anche attiva la mail accoglienza.ucraina-regione.piemonte.it per le richieste di informazioni sull'accoglienza. Per i profughi è prevista anche la vaccinazione anti-covid attraverso lo stesso portale usato dai cittadini piemontesi, il piemontetivaccina.it, dove attiva una sezione in lingua ucraina. Sono ricoverati da circa una settimana all'ospedale Regina Margherita di Torino i 13 bambini ucraini, malati oncologici, arrivati il 5 marzo a Caselle con la missione umanitaria organizzata dalla regione Piemonte. I bambini sono in netto miglioramento come condizioni generali, li abbiamo stabilizzati. Per ogni bambino è stato fatto l'iter diagnostico in accordo a quello che era la diagnosi clinica che era già stata fatta in Ucraina. A ogni bambino è stato messo un accesso vascolare, in particolare 8 su 13 non aveva un accesso vascolare centrale, che è di fondamentale importanza ovviamente per il proseguo del trattamento chemioterapico. Gli al di sopra dei 5 anni di età e i relativi accompagnatori, fratellini e sorellini, sono stati tutti vaccinati. Per tutti questi bambini vi è stato messo in atto un programma di assistenza integrata, con quelle che sono le associazioni di volontariato che da sempre lavorano con l'oncologia pediatrica, di alloggio delle famiglie, di sostegno economico e soprattutto inclusivo per i fratelli e le sorelle che non sono malati, che ovviamente non possono permanere in ospedale con noi. Il primo bambino è già stato dimesso con la mamma e il fratellino, la prima bambina, anzi questa bambina sarà poi seguita fra il nostro dei ospital e i nostri ambulatori e quindi devo dire che insomma va molto meglio rispetto ovviamente a qualche giorno fa. Cuori selvaggi è il titolo della 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 19 al 23 maggio all'Ingotto. A sostegno del popolo ucraino sarà allestita la Casa della Pace, con iniziative e incontri dedicati al dialogo tra le culture. La lettura e soprattutto la cultura sono uno strumento che unisce e non divide e questo sarà un po' il messaggio che il Salone Internazionale del Libro porterà. Sarà Torino l'epicentro ma ne beneficerà tutta la regione. Ci sarà una regione ospite che sarà il Friuli Venezia Giulia, regioni di confine un po' come il Piemonte e che hanno tratti comuni perché hanno sempre creato condizioni di ricchezza per il proprio territorio. Abbiamo una regione che quest'anno ha visto il riconoscimento di Ivrea, città del Libro 2022. Avremo anche la celebrazione del centenario di Beppe Fenoglio, che fu uomo che tutta la vita lavorò e si impegnò per la salvaguardia delle libertà. Un nuovo polo sciistico sorgerà a Garessio, in provincia di Cuneo. L'accordo di programma da 1,5 milioni di euro siglato dal Comune e dalla regione Piemonte prevede la riqualificazione degli impianti e del territorio con il ripristino della seggiovia, l'impianto per l'innevamento programmato, l'anello per lo sci di fondo, il progetto di un rifugio alpino e l'ampliamento dell'offerta sportiva non solo invernale con la creazione di una pista di downhill. Siamo molto contenti perché non dimentichiamo le stazioni cosiddette minori, in realtà sono le stazioni dove si impara a sciare. Io ho imparato proprio su queste colline tra Garessio e San Giacomo di Roburne e quindi sono convinto che è proprio da queste stazioni che dobbiamo invitare i nostri ragazzi a fare le prime esperienze sugli sci. Siamo molto fiduciosi, Garessio è una bellissima stazione, tornerà grazie a questi investimenti ad essere una delle stazioni più importanti delle Alpi mediterranee. Grazie a tutti!